Ciao a tutti ragazzi eccoci qua in questo video news vi volevo comunicare che finalmente da ora sul mio gruppo VK è disponibile il post con il video tutorial più i download di The Sims 4 aggiornato all'ultima versione che è 1.99 più l'espansione vita ad arenza e più il repack completo con tutti i DLC aggiornato dal sito di setup e quindi mi raccomando da stavolta è ritornato anche il repack completo per chi vuole installare tutto da zero può installare e scaricare il repack completo tramite un torrent quindi mi raccomando guardate attentamente questo video che da ora è disponibile mi raccomando tramite questo video news da youtube dalla descrizione troverete il link del post fatto su VK in maniera perfetta e 100% funzionante bella raga io vi saluto vi auguro una buona serata una buona cena noi ci sentiamo dopo con un video short di stasera della cena le live magari ritornerà da martedì prossimo o domenica dipende quando mi libero perché se questo weekend c'è la mia amorosa è già deciso quindi purtroppo le live anche con questo caldo non avevo più voglia quindi ritorneremo la prossima settimana se tutto va bene sennà fino agosto ecco dopo le fede perché dopo sarò impegnato con la mia amorosa per due settimane quindi per questo motivo non ci saranno più contenuti di video per un po' però ritornerò al 100% più carico che mai non vi preoccupate che noi ce la possiamo fare mai mollare in nessuna cosa bella raga e vi saluto buon divertimento con l'installazione e l'aggiornamento nuovo di TheSys4 noi ci sentiamo in un prossimo video domani pomeriggio se tutto va bene trasladato di un giorno l'appuntamento col video del gioco gratuito della Epic GameStop quindi domani ci sarà se tutto va bene questo video e poi in settimana se c'è qualche programma e così via c'ho voglia bene se no pazienza bella raga alla prossima detto questo ci sentiamo ecco basta passo e chiuso sono stanco ho la gola secca quindi meglio che chiudo che ho già detto tutto qua